ok abbiamo iniziato la sessione diana che non iniziava adesso ha iniziato ha deciso di iniziare ringraziarci ciao elena c'è un po basso ma va bene lo stesso come strada bene conto da 5 1 e ti connetti più profondamente ad anna che ci ha raccontato i suoi punti 5 4 3 2 1 di miss la vedi se la vedo e lei da bambina intorno ai 7 8 anni ed è inginocchiata in un cortile e tutto intorno a sé ha fatto un cerchio con le piccole scatole di cartone dove ha messo dentro di petali di fiori e dei sassolini in ogni scatola è per una personale e cara anche degli amichetti di scuola amichetti amichette ed è tutta che gioca esposta questi sassolini questi petali mettendoci proprio che mentre mette i sassolini ai petali dice delle frasi di affetto di amore per queste persone ok ti dà l'autorizzazione se va bene come vedi a quanto ha molta la vibrazione di anna 18 miliardi percentuale di consapevolezza 149 rapporto tra psp e con relativa sottrazione perfetta 43 e 57 brava 28 sarebbe 28 e 72 la radice di 9 3 ma vinte precedenti 1235 percentuale di cervello 9,3 causa esoterica del fatto per possiamo dirlo anna non è il nome originale della nostra amica è scelto anna io scritto anna la e finale come se fosse francese causa esoterica questi non sono mai casi e poi ho corretto il colà quindi nome francese e uno sbaglio quasi ma insomma allora allora lei era una cantante nei bar anni 30 si chiamava anna se anni 30 non per niente le hanno messo non per niente c'è questo nome nella sua vita ed è che l'ha suggerito e non per niente l'ha suggerito era collegato con la vita la era una cantante qui bar dove ci sono dove c'è il palco dove vanno spesso a cantare dove fanno gli spettacoli e lei cantava in questi bar di parigi di solito in due o tre bar le sue serate ma lei era figlia di un di un importante persona dire magnate di successo di parigi a un certo punto alla fine di una serata l'è stata rapita e portata via perché da una da una specie di fazione rivale del padre per minacciare il padre hanno portato via le l'hanno rapita e la vedo rinchiusa in questo posto buio in questa stanza buia dove vedo le sue emozioni di paura di di paura di morire di paura della violenza questa cosa qua si è risolta bene questa situazione è stato pagato un riscatto lei è tornata casa non è salva si è letta nata casa sana e salva non vedo riscatto quindi probabilmente sono riusciti a bloccarli senza ok in questa vita di anna il padre e altri personaggi di questa storia di quella vita sono in questo il suo padre era suo padre perché a un certo punto quando ho visto il padre la mi si è confuso col padre qua quindi stavo per dire infatti tuo padre è morto poi mi sono resa conto che questa era un'altra vita no quindi il padre era sempre suo padre qual è il motivo per cui cioè chi è che mi ha fatto sbagliare e sono andato sicuro a scrivere anna poi c'è una coppia che torna e ha messo la ps di anna la ps di anna ti ha fatto sbagliare perché lì c'è un particolare che fondamentale di qua perché con la e come se dove cercando il collegamento di qua mi è arrivata la più parallelismo c'è quando lei quando sono entrati i ladri in casa era un po un po corrispondente al suo rapimento di quella vita la sta cercando il collegamento perché c'entra il padre ma allora il padre dovrebbe essere molto prima e quindi vai al furto in casa con l'anno lo stesso anno in cui due tre mesi dopo c'è una profonda crisi matrimoniale con quello che marito di oggi adesso insomma realizziamo un po la cosa entrano i ladri questo succede peccato che in estate così quando le persone sono vacanza peccato che questa è l'unica casa su almeno dieci papabili nella zona e non è quella vulnerabile lo sono tutte o nessuna insomma su tutto allo stesso livello di vulnerabilità di contenuto di preziosi e di cose da rubare so perché solo lei sembra commissionato si è come se quando lei prima lo descriveva io ho visto come se casa sua fosse un un enorme lingotto d'oro ma non perché lì ci trovassero chissà quanti soldi o chissà quanti valori era proprio la quello che rappresentava quel posto per chi è andato era come se dovessero riscattare qualcosa di esoterico e in esoterico penso perché non ci ha raccontato una cosa in concreto quindi è in esoterico io ho visto prima questa vabbè la sua casa che era un enorme lingotto d'oro e in più quando ho visto i ladri dentro ho visto che prendevano tipo una specie di oggetto circolare piatto che per loro rappresentava tipo la chiave per la chiave mancante per poter andare oltre a quello che quello che stavano facendo e ed era ed è una cosa che è stata nascosta che gli è stata portata via per evitare che questi ladri andassero avanti a fare il loro progetto e sono attivi per riprenderselo io direi che aspetta perché adesso mi arrivano delle cose è come se sono le stesse sono le stesse energie stesse forze che l'hanno rapita nell'altra vita ok il padre è riuscito a bloccarli di là portandogli via questa informazione potrei dire che tipo un contratto del cluster di anna ok poi quando qua il padre morto si è risbloccata la situazione loro sono andati a riprendersi questo oggetto per portare avanti la loro il loro progetto chi c'è dietro come entità eteriche allora c'è un drago quindi un drago grosso vedo con la faccia però un po più da diavolo non so come dire a una faccia normale da drago a una faccia tipo drago demole se la godemole ma tutto primo universo anche un po metà è secondo me a metà al secondo sì fa parte di un progetto fa parte di un progetto legato a progetto globale legato a ma già allora ci sono vedere non so come tradurre il progetto di anna nome del progetto potremmo da quello di shit the seat ok che significa che se dell'are significa distruggere annientare annullare ok chiamiamo il capo di questo progetto è arrivato direi lucifero satana satana proprio capo capo e satana ok poi le altre entità stata una seconda universo se poi c'è questo drago demone appena sottosata e poi rettiliani che si si incarnano nelle persone a livello della matrix che agiscono ecco c'è quegli uomini che l'hanno rapita gli uomini che hanno fatto il furto sono guidati direi al 90 per cento da rettiliani tipo uno però perché chiama chiamiamoli nel cinema poi facciamo plexiglass nella sala e nell'altra lato del cinema con un altro ingresso privato perché chiamiamo i figli di anna il marito tutti quelli che lei vuole chiamare vediamo che se si presenta qualcuno tra amici parenti persone lei si è appassionata a questi video folli nostri nessuno intorno a lei seguita un classico niente di nuovo su un infronto occidentale avevi letto bruttissimo l'ipo ma no la scuola terribile guerra guerra oggi abbiamo netflix all'epoca avevamo la guerra ribi sulla guerra bisognava leggere sì che non poteva più e chi si presenta partiamo dai ladri sono tre come erano tre gli uomini che l'avevano rapita i bassotti vanno da basso entrano incappucciati ma io gli dico che qua non stare senza quindi poi si trova diciamo che questa non è un'aula di giustizia il cinema è un posto in cui ci si mette a confronto con la realtà delle cose è un essere onesti con se stessi non con pesa con anna ok e dicevo è un modo per mettersi in contatto con se stessi quindi venire col cappuccio già possono tornarsi da dove vengono vuol dire che non hanno capito praticamente nulla aiutati di toglierlo l'hanno tolto e dall'altra parte dei plexiglass chi c'è due figli maschi allora vedo quelli più grandi davanti in prima fila il terzo in seconda fila e il marito dietro il terzo in terza fila poi vedo due amiche è un amico le due amiche tipo a metà e l'amico un po più in fondo ok entità mentali ce n'è una di livello 2 e ce n'è una di livello 3 che prova avviene non c'è in questo momento non c'è va e viene un'identità mentale se lei riesce quando più senza che lei sia consapevole ma quando è più serena più felice più si sente meno vedo quando si sente meno sola quando ha più cose da fare creative che le piacciono che le interessano come se la buttasse fuori ok invece quando quando è più preoccupata più un po più giù di morale quando si aggancia tanto ai problemi esterni quella di entità 3 rientra riesce ad arla a cosa qual è il compito della 2 qual è il compito della 3 il compito della 2 sono più o meno solito e quello di renderla insicura di non essere adeguata di tutto in maniera ma va tutto male che non deve essere fatto così che le sbaglia che vabbè solite cose e lo fa proprio mettendogli pensiero quindi inizia a fare qualcosa dice lo faccio così e poi dopo poco arriva l'entità di livello 2 le mette il pensiero che ma sei sicuro che va fatto così secondo me non va fatto così ma iniziano allora sto sbagliando lo più oltre quella di entità 2 duradino se quella che mai viene la 3 quella che va e viene la vedo legata al suo problema con il cibo infatti prima prima era fissa ed era di entità 5 quando da adolescente hanno avuto periodo di bulimia di tre anni e un anno e mezzo due anni successivo periodo di anoressia se tutto ma che quindi era una 5 tutte c'è una 5 che presiede presi presiedeva e una collegata al sia la bulimia che all'onoressia se c'è sì 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 ok chiamiamo chiamiamo individuamo individuiamo oggi mettiamo un occhio e due sulla entità mentale collettiva bulimia e anoressia come ve la vedi la vedo come un grosso grosso disco dove al centro c'è un cerchio c'è un cerchio pieno che diciamo il posto dove l'entità mentale collettiva elabora l'energia che arriva da dalle persone collegate a lei e all'esterno c'è tipo un cuscinetto cilino cuscinetto intorno dove vedo proprio che l'energia delle persone arriva e continua a girare così e che è collegato a questo disco interno quindi poi vedo dei fili collegate le persone dall'esterno tutto intorno ok facciamo arrivare qua vicino è una o due sono una o due quest'è è come se allora a livello cinque e una e generalizzata un po più generalizzata no quindi shift a seconda della necessità di quella della persona collegata e poi ce n'è una ce ne sono due a livello cinque anche a livello sei più o meno così a livello sette sono due diverse perché sono molto potenti e difficili da scollegare chiamiamo opportunity la nostra entità mentale collettiva quella che va sempre bene l'amica che va sempre bene quella che è prima di tutto bella cicciona divertente e facciosa sai quelle nuvole che si disegnano da bambini che soffiano il vento a destra e sinistra con le guance piene di aria per soffiare un poco ampola e la facciamo soffiare la sua sensatezza su tutte queste entità mentali collettive che ormai hanno i giorni contati sono opportunità queste di esperienza e non sono condanne quindi una persona affetta dall'anoressia non è condannata sta facendo un'esperienza nel momento in cui ha deciso anche solo dopo un giorno di anoressia pura di averla fatta grazie opportunity che adesso arriva e se la abbraccia tutte queste entità mentali collettive potrebbe se sente la presenza di opportunità di capire che l'esperienza è finita ed è inutile andare avanti anni o tutta la vita ok ricorda mi lucia dopo ricorda mi lucia dopo che ti devo dire una cosa collegata opportunità ma fossero anche capito l'effetto è un'opportunità è quello un'occasione di esperienza ma migliorata di esperienza no ha fatto cosa vedi allora mentre opportunity soffia l'informazione dell'opportunità dell'esperienza su queste entità mentali ok vedo che le l'energia che arriva dalle persone quando arriva dentro il città mentale ea contatto con l'informazione di opportunity cambia proprio consistenza no quindi cambia vibrazione diventa cambia colore proprio una a livello energetico in eterico vedo proprio che cambia forma informazione cambia forma proprio vibrazionale e quindi a nelti nel disco arriva quell'informazione di di quasi come se la neutralizza ecco anna sta vedendo tutto questo vuole venire vicino vuole andare vicino a bulimia e anoressia o ne ho paura ma no nel senso dice lei si avvicina ma non senza volerle il contatto dice paura che torna il problema come se non le interessasse come se qua adesso in eterico non ne ha più bisogno che c'è nessuno neutro in eterico non non le interessa sperimentate c'è una paura nel suo emozionale sì se sì c'è la paura se la vede adesso la vede non l'aveva collegata a bulimia e anoressia e si è inventata una cosa sta facendo una cosa ha preso la sua paura ecco la paura nella sua mano ha messo la mano in opportunity e con l'altra mano si è collegata alle due a anoressia e bulimia molto bene cosa succede succede che la paura si scioglie man mano e come passa l'informazione così continua a girare no e ogni volta che passa dalla dall'emozione paura l'emozione paura si dissolve sempre un po di più ok anna ha dei figli grandi quindi una donna ormai anzi anche un po sola a casa abituato ad avere dei figli da trent'anni penso vent'anni e trent'anni e invece questo è un capitolo della sua vita di una adolescente oggi c'erano ancora dei residui di anoressia nel senso che è rimasto un rapporto col cibo non proprio sereno magari adesso non c'era spiegato però magari piccole porzioni lascia qualcosa nel piatto non concedersi mai lo sgarro evitare i cibi più ingrassanti come i dolci ipotizzo io non ce ne ha parlato oggi questo lavoro è stato molto importante soprattutto importante perché l'abbia fatto lei che ha creato con la cosa lei da sola sì sì che ci dà anche una bella idea di mettere una mano quella sinistra è detto sì in opportunity sono un po deluso del fatto che quando posto una sessione su satana prende tantissime visualizzazioni perché il titolo ha invece opportunity che è così tanto cavolo è inferiore a molte altre che poi non sono così la seduta spiritica tutti impazziscono siamo abituati netflix ci abitua a livelli di di tensione loro è il thriller pare siano i generi cinematografici che vanno più non è se qualcosa noi che vanno più ormai di queste di questi tempi peccato perché opportunity è un'opportunità sia la nuvolona cicciosa sia la sessione stessa sia tutti quelli che se ne rendono conto è un'opportunità ovviamente di crescita ci fa vedere questa cosa ci fa vedere che ancora diciamo la le persone in media in generale sono ancora vibrano ancora con queste emozioni negative e per questo forse che ancora cattività virgolette riescono a sopravvivere perché hanno ancora abbastanza energia da cicciare c'è escono a indice no durerà ancora per poco secondo me tra un po vedremo proprio la differenza marito incontro anima gemella fiamma gemella si amano anima gemella fine sì è un'anima fine si anima gemella è come se avessero deciso vite 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 tante vite fa di fare delle esperienze assieme per farle assieme cioè fare l'esperienza di fare delle esperienze assieme loro due ok quindi ogni tot vite ogni tanto si incontrano e continuano quelle esperienze come se fosse a pezzi e sono sempre marito e moglie e sono sempre lui maschio e le femmina ok il marito non vuole avanzare un po di poltrona sarebbe una cattiva idea un po più avanti si si è messo se si è messo se è andato in prima fila anche anche l'altro così è andato in prima fila se sono tutti in prima fila bene una vita a caso in cui hanno passato un'esistenza insieme non è la vita più bella per forza può essere la vita più meno di uniti se viene arrivata una molto secondo me molto significativa perché vedo che erano gestivano una libreria una biblioteca pubblica sono stati tutti e due assunti per gestire questa biblioteca pubblica un paese vicino a new york periferia di new york ed era stata affidata loro si sono conosciuti di nel senso che sono stati assunti e hanno e gestivano questa biblioteca pubblica e per loro è stato erano molto complici nel ricercare nel ricercare informazioni crescita hanno scoperto molte cose hanno aperto molto la loro mente in quella vita di hanno sperimentato tante cose strane tutto ciò che di curiosi va o incuriosiva uno l'altro loro lo andavano approfondire assieme era proprio una ricerca ma lo stanno facendo anche in questa pesa vissuto insieme matrimonio hanno vissuto insieme un'attività lavorativa un'azienda di famiglia hanno vissuto insieme la crisi matrimoniale causa esoterica della crisi hanno tentato vibrazioni molto basse con il furto e poi il malessere di anna che ci ha raccontato ok vibrazioni molto basse e quindi di hanno cercato di ancora abbassare ancora di più le vibrazioni di anna e anche del marito direi c'è andata in concomitanza la cosa e quindi hanno provato a interferire con un uomo del tempo lo calo credo con furto è una follia da dire bisogna si debbano fare due cose 1 ricomprarsi se possibile tutto quello che è stato rubato soprattutto le cose più significative subito immediatamente questa è una cosa che alza subito le vibrazioni e lava via il perso 2 bisognava fare una festa la festa del superamento del furto proprio con dolci e invitati gli irlande palloncini si direi modo da aiutare aggiungerei una festa loro due c'è alla loro solidità esatto alzare vibrazioni a dare come siamo ci dobbiamo la parola di voce ok ad gli impianti anna e delle abduction e allora le abduction ne ha qualcuna adesso dopo che è morto suo papà viene hanno fatte 45 non tantissime ma ogni tanto la prendono e sono ed è sono legate sempre quel programma che era anche di quella vita la in francia anche la faccia le stesse abduction aveva però proprio sono rare e sono molto finalizzate non sono una cosa costante di monitoraggio sono proprio delle cose fine delle abduction finalizzate a prendere un certo dato specifico per esempio la prima che gli è stata fatta che è stata fatta prima del furto dove gli hanno messo un impianto gli hanno messo un impianto sotto lo cipite ed era per quasi come se attraverso l'impianto loro potessero monitorare l'ambiente dove stava vedo che quella vibrazione che ho visto prima come se casa sua fosse un mega lingotto d'oro quella vibrazione di mega lingotto d'oro arrivava a loro attraverso questo impianto causa esoterica voglio entrare nei dettagli comunque del grosso problema dell'azienda una ingiustizia subita un ottimo lavoro eseguito non pagato un accanimento un accanimento che ha portato anche a una amara scelta scelta di di gestire il loro rapporto a livello legale posso dirlo non so posso dirlo anno se non sono separati ma si sono dovuti separare per non affondare in sostanza poter salvare salvati perché non hanno colpa di quello che è successo non sono stati al limite non sono la prossima volta si farà magari in anticipo o un 80 per cento di anticipo se la casa causa allora è legato sempre a quella cosa lì della di quella di quel contratto dove dove c'è tutto questo programma sua su anna anche della vita francese però vedo che come se la ps anche la ps del marito soprattutto abbia colto l'occasione diciamo per fare esperienza per fare esperienza di vedo che come se si fosse lasciato trascinare dalla troppa sicurezza no quindi lui sul lavoro lo sa fare molto bene ha una fama molto positiva quindi era tranquillo della sua posizione ed è andato tranquillo cioè si è fidato anche no si è fidato anche di questi clienti quindi con la sua sicurezza di essere in grado di fare il suo lavoro in modo eccellente e la sua ingenuità di poter ricevere da questo grosso cliente i soldi ha fatto sì che lui facesse questa esperienza per vedere che in fondo bisogna essere sempre molto centrati non dare niente per scontato ecco questa è la cosa io vedo che però c'è un è come se allora lui fa lavoro non viene pagato viene diciamo messa in luce questa cosa no teoria dovrebbe essere messa in luce questa cosa e il suo credito viene saldato attraverso processi legali comunque quello che è in maniera costante no fino a quando gli ieri danno i suoi soldi e lui non ha problemi invece c'è stato tipo un taglio netto a un certo punto tra la prima e la seconda parte quindi prima parte faccio il lavoro non vengo pagato denuncio tra virgolette questa cosa invece che andare come deve andare che ho i miei soldi miei soldi non li ho anzi rischio di perdere tutto perché non posso pagare i fornitori e tutto il resto io vedo che questa parte qua questo taglio viene ricucito e arriverà l'informazione terra far sì che vada tutto come deve andare bene devono solo lasciare andare alcuni alcune vibrazioni negative rispetto a questa cosa ecco più o meno nello stesso periodo sempre in virtù di questo sospetto accanimento ci sono tre fatti di gravità differente tromba d'aria che scopera che un tetto grande spesa momento sbagliato superano la cosa incendio in azienda piccolo però poteva andare molto peggio ma dato non ci voleva nemmeno quello e morte del gatto quasi l'unica compagnia diciamo quotidiana e diurna di anna inspiegabile perché non è molto di vecchiaia sì sì è proprio lei deve essere lei deve essere bloccata da tutti i modi esatto sì sì esatto l'effetto 17 proprio annullata proprio azzerata annientata in tutti i modi solo che non ce la fa non ce la fanno ma è un sospetto quando ci sono entità miste con il secondo universo del secondo universo ci sono sempre queste cose che assomigliano alle maledizioni delle fatture c'è una fattura si è appunto in quella vita la per accessi esatto perché il suo padre ha fatto uno sgarbo e la in quella vita la ok causa esoterica nel 2005 dell'asportazione della tiroide vedi allora c'era un impianto la sua ps si cercava di eliminarlo quindi era tanto infiammata poi vabbè processo medico vada in quella direzione anche se io so per certo che si può evitare ma diciamo che i protocolli medici prevedono quello e ma c'è una causa esoterica c'era un impianto e c'era un impianto la ps ha cercato di espellerlo e si è infiammata continuando a infiammarsi si ingrossa si ingrossato il tessuto perché come causa esoterica della timidezza del nostro non esporsi e di non fidarsi delle persone che non conosce beh la sua insicurezza data dall'entità di livello 2 di livello 2 è proprio facile mette in testa i pensieri che lei non è non è in grado che lei non è all'altezza e quindi vedo anche no che dice non è all'altezza quindi le persone di fuori se ne approfittano di te vedono la tua insicurezza vedono la tua non capacità le altre sono solo pensieri che metto che l'entità di livello 2 mette in testa ad anna va bene chiamiamo i due disincarnati i genitori è la prima cosa allora vedi vedo arrivare papà che abbraccia la mamma ok è la prima cosa che il papà vuole dire ad anna e adesso basta adesso fatto abbastanza esperienza di questa diciamo questo contratto questa fattura maledizione che ci è stata fatta adesso io questa esperienza qui non la voglio più fare quindi questa sarà l'ultima volta questa è finita qua chiuso vedo proprio che prende la santa riferesse alla madre alla moglie no lo dice ad anna lo sta dicendo ad anna ha preso il suo contratto e l'ha stracciato padre e madre sono anime gemelle fiamme anime gemelle non fiamme no non so perché te l'ho chiesto ma mi sembrava di vederla si sono molto affiatati e chiamiamo tutti quelli che vengono mentre in contemporanea apri il portale aureo è arrivata una cosa stranissima perché sono arrivati tutte anime gemelle coppie di anime gemelle ma dei suoi parenti o in generale generale questa è una chiamata va bene poi chiamiamo tutti i suoi parenti di tutte le sue generazioni e poi chiamiamo tutti i caduti da cini vacca dall'ultima volta due o tre giorni fa oggi in modo da toglierli dalla pancia di moloch che già è piccolino ma bisogna di potenziarlo tutti i giorni dimmi perché sorridi perché davanti ci sono le anime gemelle è una potenza enorme che fanno chiacchierano ridono ma sono tutti abbracciati proprio lo vedi arrivano tutti abbracciati si generale si confrontano tra tra di loro no tra coppie come se avessero delle cose cercano le cose in comune che co che accomunano l'anima gene le anime gemelle no in generale e vedo proprio queste l'unione no di questo rispetto alle fiamme che è un'unica ps ok che fa una sfera unica enorme c'è l'enorme c'è anche enorme rispetto alle anime gemelle lì invece vedo come se fossero due sfere che si uniscono quindi viene un po così quella è una sfera unica queste sono vengono due gobbe no tipo e che però comunque si espande un po la forza perché sono comunque più potenti che due ps non non gemelle no e vedo tutte queste gobbe grosse con l'energia viola della ps molto potente con vibrazioni molto alte ok ma c'è qualcuno che conosce anna tra queste coppie dove a parte i suoi genitori c'è una coppia di amici che però forse di un'altra vita non lo so e rivedo abbastanza giovani potrebbero avere intorno ai 30 35 anni quindi non so sicura se di questa vita o di un'altra vita cosa vuole dire la madre il padre di anna adanna godi goditi la vita perché nonostante tutto è bella molto bella se tu ti godi ogni momento vedrai la serenità la bellezza abbiamo voluto dire questa cosa qua chi tutti e due bene vi salutiamo tutti dimmi solo qualche sono quelli da cinivac la papa tolta a moloch quant'è 11.200 bene via tutti prima loro così si guardano tutto lo spettacolo i genitori di anna poi i parenti quanti sono parenti vuol dire tutte le generazioni tutto anche quelle che tu sai 287 poi le anime gemelle quante coppie sono ventina no esistono delle anime gemelle che sono che formano una triade lui lei lei lui lui lei lui 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 lei 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 si mararo le vedo ma sono morti no ne vedo da vivo può capitare morti no no li vedo da vivo ma rari ce ne sono 45 tutto il mondo perché è già difficile riuscire a incontrare un'anima gemella però 45 li vedo sì quindi non è un numero pari 20.000 non è un numero pari da morti si sono tutte coppie quindi sono 40 20.000 coppie 40.000 via ed infine i genitori come alcune volte facciamo seguiamoli per 5 secondi andiamo anche lo anche noi dentro vai anche tu dentro così tranquillamente al portale aureo ho visto una cosa nuova molto chiara è come se lo sapessero già come se l'avessero deciso prima si sono divisi e la loro esperienza della prossima reincarnazione qua da neutri è quella di cercare la fiamma ok prova l'ho già fatto con marco nella sua diretta prova a creare una d'eternum e a metterlo qua vediamo cosa succede lui ha usato l'espressione versare un bicchiere d'acqua nell'oceano non serve a niente l'abbiamo fatto tu dimmi cosa vedi perché tutto qua è già così si viverà uguale c'è si uniforma non so come dire siamo gene alla vibrazione più velocemente allora in questo momento tipo in questo momento che sono entrati tanti disincarnati ok vedo proprio l'energia del portale aureo che energia e c'è e si deve uniformare quindi entra il disincarnato vedo che diventa come una luce improvvisa e poi diventa energia del portale aureo e quindi questo per tutte il numero che ho detto che sono migliaia migliaia quando abbiamo messo la d'eterno questa cosa è avvenuta all'istante tu quindi si è uniformata subito la vibrazione di tutto e tutti ecco l'unica differenza è quella ok lo chiudiamo abbiamo tutti diamo un'occhiata moloch se piange se si dispera se si taglia è una roba quasi muscolissimo perché non si taglia ci sono tanti adolescenti poveri nel mondo che si tagliano che io veramente non ho mai capito perché ci erano capito perché non si taglia moloch che magari la cosa viene pure la si l'idea l'ha avuta pure lui che si taglino così quel poco che rimane ma può uscire dalle sue belle braccine se le ha il ranocchione no si taglia è l'immobile che come se l'informazione che è arrivata adesso è stai ferma immobile che magari si lasciano così ok e torniamo a noi cosa vuole fare anna al cluster ma andiamoci ci sono un sacco di questi dischi come detto prima che vedetevo già ogni vita un disco tipo un disco in vinile no e più contratti ci sono più è grosso il disco mi ha aperto il portale definitivo dischi in vinile e musica di corsi di voci di audiolibri vogliamo dirlo dischi di cosa vinile di cosa ogni ogni cerchio ha la traccia del contratto di quell'esperienza ogni disco rappresenta una vita e sogni disco ci sono tanti cerchi quanti sono i contratti che le ha firmato in quella vita per quella vita lì quindi se ne dovessimo metterli su un giradischi sentiremmo come posso dirti il primo il primo input per far partire l'esperienza hai presente tipo non so se ti senti mai capitato di giocare a risico ecco dopo no è che all'inizio quando tu scegli una nazione scegli un colore di soldatini ne so prendi una carta e su quella carta li ha scelta c'è prende una carta a caso e sulla carta c'è scritto qual è il tuo obiettivo ok quindi devi conquistare tutti i territori dei soldatini verdi oppure devi conquistare tutto tre continenti no ok quindi le tracce che vengono e dette quando tu metti il vinile sul giradischi e proprio devi fare l'esperienza di vivere questa vita di nuovo con tuo marito come che è l'anima una tua anima fine e poi l'esperienza sarà come però diciamo c'è l'input di partenza sul contratto ecco ok cosa ne fa di questi contratti di questi dischi aperto il portale definitivo e li sta buttando tutti dentro ok creiamo ad eterno vediamo creiamo lo farei vediamo come fa come crea molti mi scrivono come si crea come si fa si fa si descrive una mano aprila il palmo della mano e immagini una pallina energetica di energia bianca che luminosa che si muove tutta e ti si crea sulla mano la senti anche ok se volete dare un po di colore alla vostra creazione se lo fate dal vivo questa sfera di energia ora dura ad eterno cos'è l'altro rumore no rumore qua amo anche lo lasciamo qui dove c'erano i vinili ok l'ha messo ok andiamo allo so perché ma ultimamente riveto spesso vestiti da indian d'america vabbè chiedi loro come mai vogliono cercare di dice di fregarci con l'emozione della del coraggio degli indiani d'america rispetto e la potenza quindi creare anche timore va bene anna prima di eliminarlo gli toglie lo scalpo prende un bel coltello eterico tato un fantoccio prendo un bel coltello eterico gli toglie lo scalpo e ma tutto scalpo coltello pantoccio che mania con più ma stasera schermo tutto ha buttato tutto è chiuso il portale definitivo ok con queste nuove condizioni esiste ancora la maledizione l'accanimento la il progetto di fit esiste ancora no 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 l'accanimento quel contratto del padre legato alla vita di anna la francese la cantante no ballerina cantante non tante figlia del bosso no no impianti ad action tentato ed entità eteriche e le due entità mentali no direi tre entità mentali perché se la terza legata ai disturbi dell'alimentazione una volta era una quinta sì sì c'è una terza di oggi ma sì se personifichiamo le entità mentali una che era una quinta e oggi una terza su due sì quindi non è ok i tre ladri che fanno nel cinema piangono stanno piangendo disperati direi c'era ora prendano le loro considerazioni quando vogliono se ne vanno pigliano la vic le istruzioni perché resta una d'eterno e ciao ciao buona vita un prezzo è singolare la la creazione di un particolare rispetto verso la figura del ladro nella storia della della cultura dell'uomo quindi diabolica è un eroe buono robin hood è un buono senza andare lontano molto lontano la casa di carta produzione spagnola di netflix magnifica questi ladri che danno una lezione allo stato siete così sicuri che rubare sia la soluzione la soluzione credo che sia la soluzione sia creare e anche giocare se mi volete passare la idea giocare la botta di fortuna ho vinto 2 milioni un po e rubare a tutti quelli che non hanno vinto alla fine è che stanno pagando il premio con la loro insoddisfazione dove vincere io ecco vincono sempre gli stessi poi vabbè se mi sono toccati però sappiamo però non tutti però c'è la vibrazione negativa della perdita della disperazione dell'ansia perché non creare esatto nuova frequenza di anno 212 miliardi nuova consapevolezza 186 di sp 58 42 vite precedenti nel 27 vita di anna uguale diversa assente è diversa ho già visto prima quando abbiamo visto se erano sparite si era sparito il contratto del padre diverso praticamente ha cambiato sia al padre quindi non è più boss lei sempre cantante sempre la figlia sono sempre a parigi ma non viene non è lui non è più boss e non viene più rapita ok cervello 9,9 messaggio finale di anna se stessa allora tu sei in grado di sentire l'energia sei in grado di sentire l'energia tua e dell'esterno delle altre persone ora allenati a usarla per evolvere per aumentare la capacità del tuo capacità cerebrale del tuo cervello e per andare verso il tuo benessere ok per rimanere centrata e per evitare cercare di allenarti evitare che altre interferenze team ti condizionino la vita ok tu sei molto brava a sentire l'energia e la puoi utilizzare per te stessa quindi c'è proprio questo allenamento mi vedo credo proprio mi è arrivata queste due immagini 2 allora una è lei che cucina non so se ricama fa la maglia a cucire non lo so comunque come a livello meditativo di vibrazioni di allenamento per centrarsi fare questa cosa come è arrivata netta e poi tante piante tante piante diverse parare a sentire l'energia delle piante a parlare con le piante sia in casa che in giardino vedo proprio tanti vasi anche in casa è proprio un giardino anche anche in giardino proprio le vuole le piante fiori gli alberelli ecco queste due cose qua ok diamo una chiata veloce ai due personaggi legati all'olistica che hanno transitato a casa sua il master reiki e copata hanno lasciato dei residui in casa o in lei non c'è più niente per una casa sopra sopra in quel posto dove loro facevano i loro lavori io vedo che hanno lasciato allora hanno portato delle interferenze nelle persone che lavoravano con loro e nel posto li hanno creato un campo energetico di successo no ma elena sì sì un campo energetico vibrazionale ed è andata via si prego è un campo energetico vibrazionale che vibrava basso in maniera tale che due disincarnati sono riusciti ad entrare quel posto e sono rimasti legati lì ok ci siamo come lavoro finale una d'eterno ma nei cinque corpi di anna fisico puntale emozionale subliminale eterico un bella d'eterno un gigantesco in tutta la casa si vuole lei può mettere uno in ogni stanza in azienda dove le pare adesso lo sa creare quindi se ci dimentichiamo dei posti lei lo può fare da sola come abbiamo spiegato può insegnarlo ai quelli che sono rimasti nel cinema quindi i tre figli il marito le due amiche e l'amico e tutti quelli che sono dando loro anche la vic liberazione informazione consapevolezza lei stessa la può acquisire la vic ma non c'è praticamente più bisogno tutto fatto beh come vedi la situazione come vedi anna adesso vede con la bambina che è diventata adulta e questi fiori invece che metterli chiusi a vista li ha beh sensata in piedi e sta lanciando tutti i petali intorno a lei come per dire io voglio questa io voglio la mia vita sono pronta ad avere la mia vita fiorita il fiore quindi felice con l'energia bella positiva vibrazioni alte ok perfetto pronta a tornare abbiamo finito se disconnetti che allora da tutto e tutti e noi torniamo